ho provato in anteprima la versione beta del full upgrade l'aggiornamento d'autunno di luminar neo alcune delle funzioni che sono state implementate le aspettavo da sempre ma funzioneranno ciao sono mariano di videozappo.com utilizzo luminar neo da quando esiste trovi il mio corso completo linkato in descrizione nel primo commento lo trovo un software eccellente ma ha un paio di mancanze che sono davvero fastidiose e l'aggiornamento che sta per arrivare promette di risolverle vediamo se è vero quando arriverà l'upgrade e quanto costa la prima modifica salta subito all'occhio e qui nel catalogo oltre a poter scegliere la foto tra i preferiti oppure rigettarla lasciare chiaramente senza contrassegno abbiamo nuovamente anche le stelline possiamo selezionarle col mouse possiamo guardarle mentre stiamo scorrendo le foto questa è una foto per esempio che non mi piace gli do una stella questa è una foto che mi piace gli do tre stelle e posso farlo direttamente dalla tastiera premendo i tasti questa per esempio è una foto che è così così gli do due stelle questa mi piace di più gli do quattro stelle dunque ho questa funzione di base che però migliora di parecchio il catalogo anziché poter dire soltanto bello cioè presa o brutto cioè da buttare posso assegnare un voto alle mie foto e questo ben si sposa con i nuovi filtri infatti posso filtrare le foto per valutazione posso prendere tutte quelle con due stelle vedi ne ho soltanto una posso ripristinare i filtri ma posso filtrare le foto in base a tantissimi parametri per esempio alla macchina fotografica con cui le ho scattate voglio tutte le foto scattate con la sony a 6700 ad esempio a 400 iso lo seleziono e ecco qui tutte queste foto sono a 400 iso ma posso filtrarle su tanti parametri uno dietro l'altro per esempio tutte quelle che ho scattato a f2 vedi non ce n'è neanche una ma se oltre ad f2 aggiungo per esempio f 1.2 compaiono tutta una serie di altre foto che ho scattato effettivamente ad f 1.2 lo puoi vedere qui sopra ma la cosa ancor più bella è come posso cercare le mie foto perché è stata implementata una funzione che ti consente di cercare per soggetto senza aver mai aggiunto delle keyword alle tue foto le immagini vengono lette dall'intelligenza artificiale e viene ricavato il loro contenuto se vado qua nella casella di ricerca posso per esempio cercare tutte le mie foto di fiori lui dice ce ne sono 182 eccole qua ho effettivamente trovato dei fiori qua francesca un fiore in mano sono tutte foto di fiori posso anche fare ricerche più complesse per esempio cerco blonde girl e ho 168 foto che effettivamente corrispondono a questa descrizione poi ti faccio vedere che mano mano che ci allontaniamo per i risultati diminuisce l'accuratezza della ricerca vedi sofia ed evelyn non sono bionde ma sono ragazze e di conseguenza sono entrate nella ricerca ti faccio vedere un altro esempio se cerco una macchina gialla o 67 foto le prime sono perfettamente accurate è un'automobile gialla poi qui cominciamo c'è un treno giallo un altro treno giallo una ragazza vestita di giallo un tram giallo un altro tran giallo questa è semplicemente un'auto e dunque l'ha inserita nella ricerca dunque sono ordinate in base all'attinenza con la ricerca che abbiamo eseguito e tutto questo senza aver inserito alcuna parola chiave sono anche arrivate le copie virtuali una delle modifiche al catalogo che aspettavo praticamente da sempre ma le vediamo tra un attimo perché prima voglio farti vedere la magia che è arrivata nel modulo di modifica abbiamo la film strip non dobbiamo più fare tre clic per passare da una foto alla successiva era ora direi proprio di sì è la modifica che in assoluto aspettavo di più la scomodità di dover passare per il catalogo per poi ritornare al modulo di sviluppo a mio avviso era totalmente assurda adesso posso spostarmi alla foto che desidero a questa maniera qui oppure muovermi con i tasti freccia sinistra freccia destra per passare da una foto all'altra è anche arrivata a una nuova maschera la troviamo nella sezione maschere di tutti gli strumenti e del livello basata sul colore dopo quella di luminosità possiamo anche selezionare in base al colore o questo contagocce che mi permette di campionare il colore su cui desidero lavorare posso cambiarne la tolleranza per estendere la mia selezione o per contrarla e a questo punto posso intervenire sui controlli dello strumento io vorrei abbassare la struttura di questi dettagli per renderli meno appariscenti e concentrare l'attenzione qua sul ragazzo che sta pulendo posso farlo basandomi sul colore e sempre a proposito di colore è arrivato uno strumento nuovo di zecca che ti permette di trasferire la color correction ma il mood generale di una foto a un'altra lo troviamo nel pannello dei controlli creativi e si chiama color transfer da qui posso scegliere l'immagine di riferimento alcune ti vengono fornite nello specifico le ultime cinque le prime tre le ho aggiunte io in quanto posso selezionare con questo più un'immagine da prendere al riferimento e se questa immagine dovesse essere simile a quella cui sto trasferendo i colori ottengo davvero degli ottimi risultati proviamo con questa qua che non c'entra nulla qui sotto luminar ci informa di quello che sta facendo in questo momento sta copiando la color correction dall'immagine del fiore e sta cercando di applicarla a questa di piazza di spagna chiaramente posso dosare il livello dell'intervento con il cursore del valore e anche abbassando di molto il valore questo è il prima questo il dopo abbiamo comunque ottenuto un buon risultato e queste due foto non c'entravano nulla l'una con l'altra proviamo ad applicare la foto qua del tramonto e guarda un po un risultato completamente differente prima c'eravamo spostati verso toni caldi adesso ci siamo spostati verso toni più freddi con questo magenta che ritroviamo spesso nelle foto scattate al tramonto questo strumento funziona discretamente ed è ben configurabile rispetto a quello che puoi fare applicando ad esempio una lat c'è molta più flessibilità ma anche più imprevedibilità rispetto al risultato staremo a vedere l'implementazione definitiva perché ti ricordo che stiamo valutando una versione beta accennavo alle copie virtuali se io ora voglio ad esempio crearmi una variante in bianco e nero di questa foto posso farlo e posso farlo senza duplicarmi file creo una copia virtuale ecco qui trovo le mie due foto in questo momento sono due qui sotto posso spostarmi nel nostro caso per la conversione in bianco e nero e do le mie due foto senza aver fatto pasticci senza aver duplicato i file davvero una bella comodità assolutamente benvenuta sky non dichiara anche un miglioramento negli strumenti generativi proviamo a cancellare ad esempio questa persona un task a mio avviso bello complicatino selezioniamo per bene tutto quanto e schiacciamo cancella in effetti risultato non mi sembra affatto male andando a guardare da vicino sapendo che lì c'era qualcosa te ne accorgi se guardi la foto nel suo insieme ha fatto un lavoro splendido e dai test che avevo fatto con la versione precedente luminar nio era risultato il migliore nella cancellazione generativa poi chiaramente dipende da cosa gli da impasto in ogni caso è ulteriormente migliorato ma quanto costa avere tutte queste novità se hai l'abbonamento a luminar nio è tutto compreso nel prezzo non dovrai far nulla non appena ad ottobre sarà disponibile il full upgrade l'aggiornamento d'autunno potrai aggiornare luminar nio ed avere tutte queste novità se hai la licenza a vita ci sono due strade alcune di queste migliorie che ti ho mostrato arriveranno comunque in luminar nio anche per le licenze a vita e in particolare sono i miglioramenti di base al catalogo cioè tutto tranne la possibilità di ricerca basata su intelligenza artificiale se invece vuoi tutti gli aggiornamenti che stanno arrivando dovrai comprare un pacchetto di aggiornamento che in questo momento è venduto a 59 euro e comprende tutti gli aggiornamenti che arriveranno da oggi fino alla fine del 2025 in questo momento c'è anche un'offerta sul luminar nio ti lascio tutti i dettagli nella descrizione nel primo commento dove trovi anche il coupon da utilizzare per avere uno sconto ulteriore sulle cifre che ti ho indicato sia per l'acquisto dell'aggiornamento quanto se non ce l'hai per l'acquisto di luminar nio non appena l'aggiornamento sarà disponibile nella sua versione definitiva aggiornerò anche il mio corso sul luminar nio che ti ricordo non essere un manuale del software ma un corso completo di post produzione fotografica basato sul luminar nio lo aggiorno sistematicamente ogni volta che c'è una novità e farò la stessa cosa anche quando arriverà l'aggiornamento definitivo di questo autunno anche questo lo trovi linkato a prezzo scontato nella descrizione e nel primo commento fammi sapere nei commenti che cosa ti pare di questi nuovi strumenti cosa ne pensi di questa evoluzione e anche del prezzo a cui tutto ciò viene commercializzato io ti ringrazio per aver guardato questo video dammi una mano col canale metti un like diffondi tutte queste informazioni condividi il video per me è molto importante ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video